Il testo è un testo di Duncan Macmillan, Every Brilliant Thing, abbiamo mantenuto il titolo originale, Le cose per cui vale la pena vivere. È una sorta di monologo interattivo in cui succede qualcosa di, secondo me, di meraviglioso, nel senso che quest'uomo ripercorre la sua storia da quando aveva sette anni fino a quando ne ha cinquanta e nel raccontare questa storia e quello che succede nel rapporto tra lui e la madre, che è una donna malata, depressa, si fa aiutare dal pubblico e quindi apre delle parentesi, racconta degli episodi e in questo modo di raccontare coinvolge delle persone, ma in modo molto morbido, in modo molto tranquillo, nel senso che nessuno viene rapito dalla sedia e buttato in mezzo al palco, insomma. Ed è bello perché mette anche in relazione gli spettatori, c'è una dinamica per cui gli spettatori iniziano anche a sviluppare un meccanismo di cooperazione e si ritrovano nella stessa situazione che poi è quello che è il teatro, però in un testo così, fatto a luci accese, in questo modo, tenendo conto che è sempre una specie di confessione il testo, è una confessione intima che diventa a volte anche, ti fa sorridere tutto sommato, ma che parla anche di un tema serio come quello del suicidio. Ecco, quindi ragioni per vivere, condivisione, tematica importantissima che è ancora più in questo contesto pandemico. E probabilmente è questo anche che mi faceva riflettere su questo testo, il fatto che con l'aiuto di tutti quanti, tutti insieme, diciamo si può uscire fuori in questa storia, diciamo lui in fondo è come se parlasse a un gruppo di supporto. Uno spettacolo presentato in anteprima qui a Udine e sarà poi in tournée nel 2022. Anche lei come artista, come sta affrontando anche questo periodo, questo aumento dei contagi, tutte le incognite che gravano anche sul settore? Ebbè, siamo lì sul chi vive, perché insomma ci ricordiamo quello che è successo. Cima e televisione si sono organizzati molto presto e bene, per noi siamo controllatissimi. Il tampone un giorno sì, un giorno no. Sul set fai una volta a settimana il molecolare e questo vale per tutti. Quindi i set sono abbastanza blindati, ma nonostante tutto ogni tanto qualche contagio c'è anche su un set o anche appunto in una compagnia teatrale. Quindi sì, bisogna fare attenzione, speriamo che non risucceda nulla del genere. Insomma ci sono i vaccini e quindi insomma io sono ottimista.